Ciao a tutti, buona vista dal vostro Ectorelio della Pegna Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela e Spagnolo A tutti ragazzi, allegria, benvenuti nell'undicesima puntata della schedina Di chi è questa schedina, mamma? Chi è che c'è questa schedina? Chi è che c'è questa schedina? Ectorelio Di Ectorelio, sentiamo la mucana che dice, incirati Cosa ne pensi della mia schedina? Quanti soldi ho vinto l'ultima volta? Un milione di euro Quanti soldi ho vinto l'ultima volta? 64 euro E quanti centesimi? 87 centesimi Ok, andiamo, è una bambina piccola Dico bene? Sì, dici bene No, non c'è neanche parlare, quindi Vediamo subito Montenegro, Cipro 1, dico 3 a 0 per il Montenegro Lussemburgo, Azerbaijan 1, dico 2 a 0 per il Lussemburgo Colasio, Portogallo X2, dico 1 a 1 Ho 3 a 2 per il Portogallo Spagna, Germania 1 X Dico 1 a 0 per la Spagna 1 a 1 Gibitero, Leketestin, X2 1 a 1 2 a 1 per il Leketestin Malta Isole Faroe, dico 1 a 2 Questa è una battita tirata 1 a 0 per il Malta 2 a 1 per l'Isole Faroe Francia, Svezia Sì, 1 a 1 Fisto, 3 a 0 Francia E Andorra Lentoni X2 Ma che succede? Oh, tutto bene? Ok Sono 1 a 1 3 a 1 Per la Lentonia Vabbè, questo è quando ragazzi Appesto al vostro Ectorelio Della Pegna Valbuena E Spindosa De Santiago De Compostela E Spagnolo Buona Buona Allegria A tutti Ragazzi Ci vediamo stasera Per la partita a bilardino Contro mio padre E buona La prima Buona